A Villa Latina, Echi nel Vento, rassegna internazionale di zampogne, pive e muset. Il 30 novembre, alle 17, nella Chiesa della Santissima Annunziata, il Forum Internazionale su Strumenti a Riserva d'Aria ed il Concerto della Sordellina e Zampogna. Mentre il 1 dicembre, nella Chiesa Santissima Annunziata, alle 17, concerto di chiusura con ospiti internazionali. Il 30 novembre ed il 1 dicembre a Villa Latina, Echi nel Vento, rassegna internazionale di zampogne, pive e muset.